Piazza della Signoria è il museo più grande, più bello, gratuito, a cielo aperto. Le nostre amministrazioni non stanno proteggendo i loro cittadini. Ma cosa serve fare questo? Cambia il mondo con questo! Ma stai giusto! Vai a... Vai a... Vai a... Vai a... Vai giusto! Vergognati! Vergognati! Vieni per le gambe! Fai pregando per me! No! 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info